Salve a tutti amici del canale di The Name Before Tokyo, sono TNBTOP e parliamo oggi di One Piece Gold, l'ultimo film per la regia di Hiroaki Miyamoto e supervisionato ovviamente da produttore esecutivo Eiichiro Oda. Un film molto atteso che è uscito in Italia dal 24 novembre e che io ho visto due giorni fa a Livorno, non perché non avessi cinema vicino casa ma perché approfittando di un raduno che c'è stato con tanti ragazzi dell'internetto ci siamo riuniti e abbiamo approfittato anche dell'occasione per andare a vedere questo film. In sala eravamo io, il dottor Verbatim, youtuber che parla di One Piece, ve lo ricorderete probabilmente per tanti video su teorie e altro, poi c'era Raffaello Gomma che ora non fa più video ma comunque sempre OP, altri ragazzi appassionati e Italo di Anime e Manga Ita, appunto un canale che si occupa principalmente di animazioni, hanno anche parecchi iscritti. Comunque è stata diciamo un'occasione quella di incontrarci per andare poi a vedere, abbiamo approfittato per vedere questo film e il giudizio diciamo che è stato positivo tranne nel caso di Italo che diciamo ha un occhio un po' più critico sull'animazione visto che ha una cultura magari maggiore rispetto a noi che stavamo lì a vedere il film. Mi sono trovato però in contrasto con lui su alcune cose e devo dire che ho apprezzato One Piece Gold e lo ritengo un buon prodotto seppure non eccezionale, probabilmente neanche il miglior film di One Piece. Io non ho visto tutti i film ma tra gli ultimi film ho visto Strong World e Zeta che erano comunque molto ben realizzati anche loro e devo dire che forse One Piece Gold ha dei difetti e ha dei difetti che però comunque lasciano il mio giudizio generale tutto sommato positivo quindi ampiamente sopra la sufficienza. Il difetto principale che ho trovato a questo film probabilmente è stata proprio la lunghezza, la lunghezza perché in certi punti magari si allunga un po' troppo, ci sono delle scene che potrebbero essere tagliate e in generale penso che anche una durata di magari 10 minuti in meno sarebbe stata sufficiente, anzi forse l'avrebbe fatto apprezzare di più. La grafica, le grafiche appunto fatte molto spesso a computer sono spettacolari, gli effetti sono incredibili, anche se io certo che sono cresciuto magari con cartoni animati diciamo meno digitalizzati, tra virgolette non riesco ad apprezzare appieno questa tecnica però oggi praticamente l'industria dell'animazione va verso questa direzione quindi è un po' in linea con il trend generale. La storia è praticamente molto minimalista, quasi ridotta all'osso, è la classica storia alla OP, tra virgolette, il protagonista negativo, cioè l'antagonista, Ghi il tesoro, personaggio sul quale anche qui con Italo abbiamo avuto dei dissidi perché lui dice che non è stato approfondito a dovere. Secondo me invece l'approfondimento c'è stato per quel poco che può essere approfondito un personaggio in una pellicola appunto che è comunque ridotta, quindi personaggio che anche nell'aspetto molto figo ricorda molto Doflamingo, infatti non a caso la saga si svolge in un mondo tra virgolette parallelo perché non canonico ma comunque dopo Dressrosa, quindi è una storia che prende vita dopo Dressrosa, ho apprezzato molto alcune scene come ad esempio i combattimenti finali, molto molto spettacolari, tutti gli effetti realizzati con l'oro, sapete che comunque il protagonista negativo appunto l'antagonista ha un potere che è legato all'oro, quindi un frutto fortissimo che su una nave tutta ricoperta d'oro praticamente lo fa essere quasi invincibile, poi non vi dico come verrà sconfitto, però ecco, chiaramente non penso neanche che il non fare spoiler sia grave in questo caso, cioè il fare spoiler sia grave perché ecco c'è veramente poco da spoilerare per quanto riguarda la trama, non vi aspettate un trattato di filosofia oppure un film impegnato di nessun tipo perché ecco, va ribadito che si tratta di un prodotto per ragazzini principalmente, in sala con noi c'erano tantissimi bambini, ragazzi accompagnati dai genitori, qualcuno anche più grande, ma l'età media era decisamente bassa, questo perché proprio in generale One Piece va bene per tutti ma comunque è uno shonen, e in più, ecco, secondo me già il target medio di One Piece non ha un'età particolarmente elevata nel manga, per quanto riguarda l'anime, il cartone animato, chiamiamolo appunto in maniera italiana, il cartone animato rispetto al fumetto ha un pubblico ancora più basso come fascia d'età, quindi non, diciamo, non mi ha stupito vedere tanti ragazzini che magari urlavano durante la proiezione o lanciavano, appunto, si lanciavano a frasi di dubbio senso magari su personaggi che erano apparsi in determinate saghe eccetera, ovviamente non mi aspetto che tutti siano dei grandi esperti di One Piece, ma molta gente lo guarda semplicemente per, comunque, per essere un prodotto di intrattenimento. Diciamo che proprio il film potrebbe essere riassunto con la frase dell'antagonista appunto che dice questo sì che è intrattenimento, è un film fatto per intrattenere. Ripeto, gradevole, ho trovato molto giusto il fatto che Ruffi per la prima volta venga doppiato da, venga doppiato, il nome venga doppiato, Luffi, quindi non Rubber, e già solo per questo varrebbe la pena andare al cinema perché di Rubber non se ne poteva più, quindi Luffi, l'ho gradito, ho gradito molto le citazioni a One Piece che vengono fatte durante il film, un sacco di personaggi appaiono, fanno dei camei, tra virgolette, molto carini, e anche qui vedevi i bambini dire, oh guarda c'è tizio, caio, eccetera, film divertente, scorrevole, nonostante sia lungo comunque il ritmo procede bene, incalzante, un sacco di personaggi vengono messi lì, comunque hanno il loro ruolo, mi ha fatto piacere rivederli, non farò ulteriori spoiler, ecco, Comunque, ripeto, film a mio avviso ampiamente sopra la sufficienza, sebbene non sia magari un capolavoro, ma il capolavoro lo vedete lì alle mie spalle, quella fila blu si chiama One Piece, il manga, e quello sì è un capolavoro, posso dirlo, almeno dal mio punto di vista, Poi, che da lì abbiano fatto, come succede sempre, una serie animata, un'anime fedele alla originale, che abbiano fatto degli spin off, dei film, ci facciano le statuette, appunto, d'action figure, bandiere, cappelli, cosplay, videogiochi, chi più ne ha, cioè, youtuber, gente che ne parla, community, Chi più ne ha, più ne metta, tutto questo è l'universo che ha origine da lì, ma, ripeto, si tratta tutto di prodotti collaterali, l'opera sola è unica ed è una sola, è quella che vedete lì dietro, il resto è un modo comunque per passare il tempo, nonostante sia One Piece Gold, questa forse è la cosa più importante, un film concepito per tutti e per il grande pubblico, o magari per, diciamo, attirare anche neofiti dell'opera, tra virgolette, in realtà, dal mio punto di vista, mi sento di sconsigliare, sconsigliare questo film a chi non conosca già One Piece, perché ci sono tutti i cliché, tutti i luoghi comuni, risate, combattimenti, gag, eccetera, messaggi anche profondi, ma c'è tutto un po' forse banalizzato, perché chiaramente è prodotto e destinato a bambini, ragazzini e al grande pubblico. Ecco, per questo motivo io mi sento di dire invece che proprio per questo è un film che forse viene apprezzato di più da chi già conosce One Piece e sa che queste cose fanno parte del tutto, ma non sono il tutto. Se invece non conosci One Piece e ti vuoi appassionare, io ti sconsiglio di guardare Gran Tesoro, ti sconsiglio di guardare One Piece Gold e ti consiglio invece di comprare quello. Di comprare quella serie lì, dal primo volume, se trovi l'edizione blu è meglio, inizia a leggerti i volumi piano piano e poi apprezzerai anche tutto quello che viene intorno alla grande opera dell'Ecidio Sensei. Questo è il mio personalissimo giudizio, la mia personale opinione su One Piece Gold. Ripeto, film comunque gradevole. E niente, fatemi sapere se lo avete visto, se vi è piaciuto o meno. Come al solito, pollice in su se avete gustato il video, se non vi gusta, pollice in giù, condivisione e quello che vi pare, insomma. Link della mia pagina, canale Telegram, in descrizione. Ciao a tutti, bye bye!